Delitto e castigo, parte sesta, capitolo 4. Voi sapete, forse, io stesso del resto ve l'ho raccontato, cominciò Svidrigailov, che sono stato qui in carcere per debiti, per una cifra enorme e senza avere in vista il benché minimo mezzo di pagamento. Non c'è da particolareggiare sul come allora mi riscattò Marfa Petrovna. Lo sapete fino a che punto di infatuamento può a volte amare una donna? Era una donna onesta, tutt'altro che sciocca, benché del tutto senza istruzione. Figuratevi dunque che proprio quella donna, gelosa e onesta, si risolse, dopo molti tremendi accessi di frenesia e rinfacci, ad abbassarsi a una sorta di contratto con me, che poi adempì in tutto il tempo del nostro matrimonio. Il fatto è che lei era notevolmente più anziana di me. Inoltre doveva continuamente tenere in bocca un chiodino di garofano. Io avevo nell'anima tanta sudiceria e, nel suo genere, tanta onestà da dichiararle francamente che non potevo esserle del tutto fedele. Questa confessione la mise in frenesia, ma, a quanto pare, la mia brutale franchezza in certo modo le piacque. Dunque, pensò, non vuole deliberatamente ingannarmi, se lo dichiara così in precedenza. Beh, per una donna gelosa questa è la prima cosa. Dopo lunghe lacrime si stabilì tra noi un contratto verbale di questo genere. Primo, io non avrei mai lasciato Marfa Petrovna e sarei sempre rimasto suo marito. Secondo, senza il suo permesso non mi sarei mai assentato. Terzo, un amante stabile non me la sarei mai fatta. Quarto, Marfa Petrovna mi permetteva di occhieggiare qualche volta alle ragazze di servizio, ma unicamente a patto di esserne in segreto informata. Quinto, mi guardasse iddio dall'amare una donna del nostro ceto. Sesto, se per caso dal chi mi scampasse iddio mi avesse colto una qualche passione grande e seria, avrei dovuto aprirmi a Marfa Petrovna. Circa all'ultimo punto Marfa Petrovna fu del resto sempre abbastanza tranquilla. Ero una donna intelligente e per conseguenza non poteva considerarmi altrimenti che come un depravato e un sottaniere. che di amar seriamente non era capace. Ma donna intelligente e donna gelosa sono due cose diverse. Ed ecco, qui appunto sta il guaio. Del resto, per giudicare spassionatamente di certe persone è necessario rinunciare in precedenza a talune vedute preconcette e alle consuete abitudini di fronte alle persone e agli oggetti che di solito ci circondano. Del vostro giudizio ho diritto di fidare più che in quello di chi che sia. Forse su Marfa Petrovna avete già udito moltissime cose ridicole e assurde. Realmente lei aveva certe abitudini molto ridicole ma vi dirò senz'altro che sinceramente rimpiango gli innumerevoli dispiaceri dei quali le fui cagione. Beh, è abbastanza, mi pare, per un'assai decorosa orason funebo di un tenerissimo marito in memoria di una tenerissima moglie. In caso di nostri litigi io perlopiù tacevo e non mi irritavo. E questo affare da gentleman quasi sempre raggiungeva lo scopo. Agiva su di lei e le piaceva perfino. C'erano dei casi in cui era anzi orgogliosa di me. Ma la sorellina vostra tuttavia a lei non poté tollerarla. E in che modo mai era accaduto che si fosse arrischiata a prendere una simile bellezza in casa sua? Come istitutrice! Lo spiego col fatto che Marfa Petrovna era donna focosa e impressionabile e che puramente e semplicemente si era lei stessa innamorata. Alla lettera innamorata di vostra sorella. Beh, anche Avdotya Romanovna. Io avevo capito benissimo. Fin dal primo sguardo che la faccenda andava male che cosa pensate? Già stavo per risolvermi a nemmeno alzar gli occhi su di lei. Ma Avdotya Romanovna stessa fece il primo passo. Lo credete o no? Credete pure che Marfa Petrovna giungeva al punto di arrabbiarsi perfino con me sul principio per il mio perpetuo silenzio circa vostra sorella. Perché ero così indifferente ai suoi incessanti e appassionati giudizi su Avdotya Romanovna? Io stesso non capisco che cosa volesse. Beh, certo, Marfa Petrovna raccontò ad Avdotya Romanovna tutta la mia storia. Aveva una sciagurata abitudine di riferire proprio a tutti i nostri segreti domestici e di lagnarsi con tutti e continuamente di me. Come si poteva saltare una così nuova ed eccellente amica? Suppongo che tra loro non si facesse altro discorrere se non sul mio conto. E senza dubbio ad Avdotya Romanovna divennero note tutte quelle tenebrose e misteriose favole che mi si attribuiscono. Scommetto che voi pure avete già sentito qualcosa del genere. Ho sentito. Luzin vi accusava di essere stato perfino la causa della morte di una bambina. È vero? Ma fate il favore. Lasciate in pace tutte quelle volgarità. Si schermì con repulsione stiziosamente Svidri Kailov. Se voi vorrete proprio conoscere tutta questa insulsaggine io un giorno o l'altro ve la racconterò a parte. E adesso? Si parlava anche di un certo domestico che avevate in campagna e si diceva che sareste pure stato la causa di non so che cosa. Ma fate il favore, basta! Tornò a interrompere con palese impazienza Svidri Kailov. Non è quel domestico che dopo morte veniva a riempirvi la pipa? Già me lo raccontaste voi stesso. Raskolnikov si irritava sempre più. Svidri Kailov guardò attentamente Raskolnikov e a costui parve che in quello sguardo fosse balenato istantaneamente come il lampo. Un malvagio sogginio. Ma Svidri Kailov si contenne e rispose con molta cortesia. Quello stesso. Vedo che a voi pure tutto questo interessa straordinariamente. Estimerò mio dovere nella prima occasione propizia. Soddisfare su tutti i punti la vostra curiosità. Che il diavolo mi porti! Vedo che realmente posso sembrare a qualcuno un personaggio romanzesco. Giudicate dunque fino a che punto sono in obbligo, dopo ciò, di ringraziare la defunta Marfa Petrovna per aver spifferato alla vostra sorellina sul conto mio tanto di misterioso e di curioso. Non ardisco giudicare quell'impressione, ma in ogni caso, ciò mi fu di vantaggio. Con tutta la naturale avversione di Avdatia Romanovna per me, e nonostante il mio perenne aspetto tetro e repellente, ella senti infine pietà di me. Pietà di un uomo perduto. E quando il cuore ed una fanciulla sente pietà, è quella, ben si intende, la cosa per lei più pericolosa di tutte. Ma allora ti vuole a tutti i costi salvare e ricondurre alla ragione e risuscitare e chiamare a più nobili mete e generare per una nuova vita e attività. Beh, si sa quanto mai si può fantasticare in questo senso. Io subito intuì che l'uccellino volava da sé nella rete e, a mia volta, mi preparai. Voi, mi pare, vi abbuiate, Rodion Romanich. Cose da nulla, la faccenda, come sapete, si risolse in inizie. Che il diavolo mi porti? Quanto vino bevo? Sapete, ho sempre rimpianto, fin dal principio, e il destino non abbia fatto nascere vostra sorella nel secondo o terzo secolo della nostra era. Chissà dove. Figlia d'un principotto sovrano o d'un qualche governante o d'un proconsole dell'Asia minore. Lei, senza dubbio, sarebbe stata una di quelle che patirono il martirio e di certo avrebbe sorriso quando le avessero bruciato il petto con le tenaglie roventi. Vi si sarebbe sottoposta da sé. Di proposito. E nel quarto o quinto secolo se ne sarebbe andata nel deserto egiziano e sarebbe vissuta là per trent'anni nutriendosi di radici, di estasi e di visioni. Lei stessa non brama e non chiede altro che di subire al più presto qualche tormento a favore di qualcuno. Se non le si accordasse questo tormento sarebbe capace anche di gettarsi dalla finestra. Ho sentito qualcosa di un certo signor Azumikin. È un ragazzo, dicono. Assennato. Cosa che anche il suo cognome denota. Un allievo di seminario, probabilmente. Beh, si prenda pur cura di vostra sorella. Insomma, mi pare di averla capita il che mi tengo ad onore. Ma allora, cioè, all'inizio di una conoscenza, anche voi lo sapete, si è sempre, in certo modo, più spenserati e più sciocchi. Si sbaglia nel guardare le cose e non si vede giusto. Che il diavolo mi importi. Perché lei è così bella? Io non c'ho colpa. Insomma, la cosa cominciò in me dal più irresistibile accesso di sensualità. Avdotya Romanovna è tremendamente pudica in modo inaudito e mai visto. Prendete nota che io vi dico questo di vostra sorella come un fatto. È pudica, forse, fino alla malattia. nonostante tutta la sua vasta intelligenza e ciò le nuocerà. A questo punto ho capito da noi una ragazza. Parascia. Una parascia dagli occhi neri che avevano appena portato lì da un altro villaggio. Una cameriera che io non avevo ancora mai veduto. Bellina assai, ma sciocca fino all'inverosimile. Si buttò a piangere. Levò degli strelli da riempire la casa e ne venne uno scandalo. Una volta, dopo pranzo, Avdotya Romanovna di proposito mi scovò solo nel viale del giardino e con occhi lampeggianti pretese da me che lasciassi in pace la povera parascia. Era quasi la nostra prima conversazione a quattro occhi. Io, si intende, stimai un onore a pagare il suo desiderio. Mi sforzai di fingermi impressionato o turbato in una parola. Recitai la mia parte benino. Cominciarono tra noi delle relazioni. Misteriosi colloqui, prediche, sermoni, preghiere, suppliche, perfino lacrime. Io, credete, perfino lacrime. Ecco a che grado di forza arriva in certe fanciulle la passione della propaganda. Io, certo, rovesciai ogni colpa sul mio destino. Mi finsi avido e assettato di luce, infine. Misi in azione il supremo e invincibile mezzo per soggiogare il cuore femminile. Il mezzo che non deluderà mai nessuno e che agisce assolutamente su tutte le donne. Fino all'ultima, senza eccezione alcuna. È un mezzo noto, l'adulazione. Non c'è nulla al mondo di più difficile della franchezza e nulla di più facile dell'adulazione. Se nella franchezza solo una centesima parte di nota suona falso, subito ne viene una dissonanza e poi uno scandalo. Se nell'adulazione invece tutto è falso fino all'ultima nota, anche allora essa è gradevole e si ascolta non senza piacere. Si appure con un grossolano piacere, ma pur sempre piacere. E per grossolano che sia l'adulazione, indubbiamente almeno metà di essa sembra verità. E questo, per gente d'ogni levatora è strato sociale. Perfino una vestale si può sedurre con l'adulazione. Delle persone comuni poi non c'è neppur da parlare. Non posso rammentarmi senza ridere di come una volta sedussi una signora devota a suo marito, ai suoi figli, alle sue virtù. Che cosa allegra fu quella e quanto poco lavoro ci volle. E la signora era effettivamente virtuosa, almeno a modo suo. Tutta la mia tattica consisteva in ciò che addirittura ogni momento ero annientato e cadevo bocconi davanti alla sua pudicizia. L'adulavo sfacciatamente appena mi accadeva ad ottenere una stretta di mano, perfino uno sguardo, mi rimproveravo di essere stato io a strapparglieli con la forza. Dicevo che lei aveva opposto resistenza, una tal resistenza che di sicuro non avrei mai ottenuto nulla se non fossi stato io così vizioso. Che lei, nella sua innocenza, non aveva preveduto l'insidio e aveva ceduto involontariamente senza saperlo né immaginarlo né pur lei eccetera eccetera. In una parola ottenni tutto quanto e la mia signora rimase in sommo grado persuasa ad essere innocente e pudica, di adempire tutti i suoi doveri ed obblighi ed essere caduta in modo affatto impensato e come andò in collera contro di me quando le dichiarai alla fine che, secondo la mia sincera convinzione, aveva cercato le gioie dei sensi esattamente come me. La povera Marfa Petrovna era pure oltremodo accessibile all'adulazione purché avessi voluto e certamente avrei fatto mettere in capo a me tutta la sua proprietà mentre ancora era in vita. Bevo vino però e chiacchiero di gran lunga troppo. Spero che non vi adirerete se ora accennerò che quel medesimo effetto cominciò a prodursi anche in Avdotya Romanovna. Ma io stesso fui sciocco e impaziente e guastai tutta la faccenda. ad Avdotya Romanovna già più volte e anche prima ma una volta in modo speciale era enormemente spiaciuta l'espressione dei miei occhi. Lo credete? Insomma sempre più forte e più incautamente si accendeva in essi un certo fuoco che la impauriva e che infine le divenne odioso. Non è il caso di raccontare i particolari ma ci allontanammo l'un dall'altro. Qui feci di nuovo lo sciocco. Mi buttai nel modo più grossolano a farmi beffe di tutte quelle propagande e di quei metodi. Parascia venne di nuovo in scena e non lei sola. In una parola cominciò una barahonda. Se aveste veduto Rodion Romanich almeno una volta nella vita gli occhietti della vostra sorellina così come da loro la sanno lampeggiare. Non fa nulla che adesso sia ubriaco ed abbia già bevuto. Ecco un intero bicchier di vino. Io dico la verità. Vi assicuro che quello sguardo me lo sognavo. Infine non potei più sopportare il fruscio della sua veste. Davvero. Pensavo che mi sarebbe venuto il mal caduco. Non avevo mai immaginato di poter giungere a una tal frenesia. Insomma era indispensabile far la pace. Ma questo ormai era impossibile. E figuratevi che fece allora? A qual grado di ottusità il furore può condurre un uomo? Non imprendete mai nulla in stato di furore Rodion Romanich. Calcolando che Avdotya Romanovna in fondo era una pezzente ah scusate non questo volevo dire ma non è tutt'uno se si esprime lo stesso concetto. Insomma che viveva del lavoro delle sue mani che aveva da mantenere la madre e voi ah diavolo tornate ad accigliarvi io mi indussi a offrirle tutto il mio denaro fino a trentamila rubli potevo anche allora realizzarli perché fuggisse con me almeno qui a Pitroburgo. Si intende che qui le avrei giurato amore eterno beatitudine eccetera eccetera lo credete mi ero allora incapricciato a tal punto che se lei mi avesse detto scanna o avvelena Marfa Petrovna e sposami sarebbe stata subito cosa fatta ma tutto finì con la catastrofe a voi già nota voi stesso potete giudicare a qual punto di furore potei giungere avendo saputo che Marfa Petrovna aveva trovato questo vilissimo storcileggi di Luzin poco meno che combinato le nozze il che in sostanza sarebbe stato la stessa cosa che anch'io avevo proposto ma è così è così non è vero che così io noto che vi siete messo ad ascoltare molto attentamente interessante giovanotto Svidrigailov nell'impazienza batte col pugno sul tavolino si era fatto tutto rosso Raskolnikov vedeva chiaramente che il bicchiere o il bicchiere mezzo di champagne che egli aveva bevuto sorseggiandolo insensibilmente a centellini aveva agito su di lui in modo malsano risolse di approfittare dell'occasione Svidrigailov gli era molto sospetto beh ormai dopo tutto ciò sono pienamente convinto che anche qui siete venuto avendo la mira a mia sorella disse gli a Svidrigailov direttamente senza infingersi per irritarlo anche più smettete farvi riprendersi di colpo Svidrigailov vi ho pur detto inoltre vostra sorella non mi può soffrire ne sono convinto anch'io che non può ma non di questo si tratta adesso e voi siete convinto che non si può Svidrigailov strizzoglio che sorrise beffardamente avete ragione lei non mi ama ma non garantite mai di cose avvenute tra marito e moglie o tra amanti qui c'è sempre un cantuccio che rimarrà sempre ignoto a tutto il mondo e che è noto solo a loro due potete garantire che Avdatyaromanovna mi vedesse con ripugnanza da certe parole e mezze parole del vostro racconto noto che avete anche adesso le vostre viste e le più indifferibili mire su Dunia si intende ignobili come mi sono sfuggite simili parole e mezze parole si spaventò a un tratto più che ingenuamente Svidrigailov senza rivolgere la minima intenzione all'epitito assegnato alle sue mire ma anche adesso vi sfuggono su via di che cosa per esempio avete tanto timore perché ora vi siete improvvisamente preso paura io temo e mi prendo paura mi prendo paura di voi tocca a voi piuttosto temermi che stramberia però ma del resto sono diventato brillo lo vedo per poco non mi tradivo di nuovo ma al diavolo il vino ehi dell'acqua e gli afferra la bottiglia senza cerimonie la scagliò fuori dalla finestra philip portò dell'acqua sono tutte scempiaggini disse Svidrigailov inzuppando un asciugamano e applicandoselo al capo ma io posso mettervi a terra con una sola parola e ridurre in polvere tutti i vostri sospetti sapete voi per esempio che io mi sposo questo me l'avevate già detto anche prima l'avevo detto me ne son dimenticato ma allora non potevo dirlo in modo positivo perché non avevo ancora neppur veduto la fidanzata avevo solo un'intenzione beh adesso invece ho già la fidanzata e la cosa è fatta perché non avessi degli affari improrogabili vi prenderei senza fallo con me e vi condurrei subito da loro perché voglio chiedere il vostro consiglio diavolo restano appena dieci minuti vedete guardate l'orologio del resto ve lo racconterò perché è una cosetta interessante il mio matrimonio nel suo genere dove andate di nuovo via no ormai non me ne andrò più non ve ne andrete per nulla vedremo io vi condurrò là è vero vi mostrerò la fidanzata purché non adesso adesso per voi presto sarà ora voi andrete a dritta io a manca quella restlik la conoscete quella tal restlik da cui abito ora ma sentite no che cosa pensate quella stessa a proposito della quale si dice che una ragazzuccia nell'acqua d'inverno beh sentite sentite ebbene tutto questo me l'ha combinato lei tu dice ti annoi tanto svagati per un po' di tempo e io infatti sono un uomo tetro malinconico voi credete allegro no tetro male non ne faccio ma me ne sto in un canto talvolta per tre giorni con me non si discorre e quella restlik è una briccona vi dirò ecco che cosa in mente io mi annoierò pianterò la moglie e me ne andrò e mia moglie toccherà a lei e lei la metterà in circolazione nel nostro aceto cioè più su possibile ce l'ha dice un certo padre invalido un impiegato a riposo se ne sta in poltrona ed è il terzo anno che non muove le gambe c'è dice ma anche la madre una signora giudiziosa la mamma il figlio presta servizio non so dove in provincia non gli aiuta una figlia si è maritata e non dà notizie e sulle braccia hanno due nipotini quelli di casa non bastavano e hanno tolto dal ginnasio prima che finisse i corsi la bambina l'ultima loro figlia che tra un mese appena compierà i 16 anni e quindi tra un mese la si potrà anche maritare a me cioè ci andammo che cosa buffa fu da loro mi presento possidente vedovo di famiglia nota con le tali relazioni con un capitale beh che fa che io abbia 50 anni e quella nemmeno 16 ma chi ci vada beh una cosa seducente una cosa seducente se aveste veduto come mi mise a discorrere con papà e mamma e si sarebbe dovuto pagare solo per vedermi in quel momento lei viene fuori fa la riverenza beh potete figurarvi ancora in vestitino corto un bottoncino non ancora sbocciato arrossisce si fa di fuoco come un'aurora gliel'avevano detto certo non so come voi la pensiate riguardo ai visetti femminili ma secondo me quei 16 anni quegli occhietti ancora infantili quella timidezza e quelle lacrimucce di vergogna secondo me ciò è meglio della bellezza e lei è anche pergiunta di persona una miniatura capelli un po' chiari arricciolati in piccole anella abruzzi turmidetti vermigli i pedini una delizia beh facemmo conoscenza io dichiarai che per circostanze domestiche avevo premura e fin dal giorno dopo ieri l'altro cioè ci diedero la benedizione da quel momento appena arrivo subito me la prendo sui ginocchi e non la lascio più andare beh si fa di fiamma come un'aurora e io la bacio di continuo mamma si intende e le suggerisce che questo dice è tuo marito e che così si richiede in una parola una fragoletta e questa presente condizione di fidanzato è forse davvero meglio anche di quella maritale qui c'è quel che si chiama la natura e la verità con lei ho chiacchierato un paio di volte una ragazzina tutt'altro che sciocca talvolta mi guarda così di sfuggita mi brucia addirittura da parte a parte se sapete ha un visetto del genere di quello della madonna di raffaello vero che la madonna sestina ha un volto fantastico il volto di una dolente mente catta ciò non v'è mai balzato agli occhi beh qualcosa del genere appena ci ebbero benedetti il giorno dopo la portai per un migliaio e mezzo di rubli un finimento di brillanti un altro di perle poi uno scrigneto d'argento da signora per acconciatura ecco di che grandezza con tutti gli accessori tanto che perfino lei la madonna il visetto si fece rosso la feci ieri sedere sui ginocchi ma probabilmente ormai con ben poche cerimonie si fece di fuoco e le sgorgarono le lacrimucce ma non voleva tradirsi ardeva tutta anche lei e se ne andarono tutti per un minuto io e lei restammo assolutamente soli e a un tratto mi si getta al collo da sé per la prima volta mi abbraccia con tutte e due le manine mi bacia e giura che sarà per me una moglie obbediente fedele e buona che mi sarà felice che vi impiegherà tutta la sua vita ogni minuto della sua vita sacrificherà ogni cosa ogni cosa e per tutto ciò desidera aver da me soltanto il mio rispetto e di più dice non occorre nulla nessun regalo convenitene voi stesso che ascoltare una simile confessione a quattro occhi da un tal piccolo angelo sedicenne investito di tuile con i riccioli inanellati un rossore di pudor virginale con le lacrimucce d'entusiasmo negli occhi convenitene voi stesso è abbastanza seducente vero che seducente vero che vale qualche cosa beh su via vero che la vale beh ascoltate andremo dalla mia fidanzata purché non subito insomma in voi è questa mostruosa differenza d'età e di sviluppo a eccitare la sensualità ma possibile che in realtà vi sposiate così e che c'è senza fallo ognuno si industria per sé e più gaiamente di tutti vive colui che meglio di tutti sa gabbare se stesso ma perché poi vi siete ingolfato così a piene vele nella virtù risparmiatemi vatiusca io sono un peccatore avete però provveduto per i bambini di katerina evanovna del resto del resto avevate per far ciò i vostri motivi adesso capisco tutto i bambini in generale io li amo amo molto i bambini si mise a ridere forte svidrighello a questo proposito posso perfino raccontarvi un certo caso arci curioso che continua tuttora e fin dal primo giorno dopo l'arrivo andai per diverse di queste cloache beh dopo quei sette anni mi ci avventai addirittura voi probabilmente notate che non ho fretta di affiatarmi con la mia compagna gli amici e i conoscenti di prima la tirerò anche in lungo il più possibile senza di loro sapete da Marfa Petrovna in campagna mi avevano torturato a morte i ricordi di tutti questi misteriosi posti e posticini nei quali chissà non può trovare parecchio che il diavolo mi porti il popolo subriaca la gioventù istruita arde e si consuma dall'inazione in sogni e fantasie impossibili si snatura nelle teorie da non so dove sono affluiti gli ebrei e occultano il denaro tutto il resto si dà alla depravazione fin dalle prime ore questa città mi alito addosso un odore ben noto capitai a una cosiddetta serata danzante una cloaca tremenda e a me piacciono le cloaca appunto con un po' di sudiceria beh si intende un can can come non ce n'è altri e come non ce n'era ai miei tempi sì signore in questo c'è progresso a un tratto guardo una bambina sui 13 anni vestita in modo assai carino balla con un virtuoso un altro le sta davanti vis a vis contro la parete e poi su una sedia se ne sta la madre sua beh potete figurarvi che can can la bambina si confonde arrossisce infine se la prende come un'offesa e comincia a piangere il virtuoso la ferra e comincia a farla girare e a fare davanti a lei varie mosse tutti all'intorno sghignazzano e mi piace in tali momenti il vostro pubblico sia pur anche quello del can can sghignazzano e gridano ben fatto così bisogna e non si portino i bambini beh io ci sputo su e non mi importa che si divertano in modo logico o piuttosto illogico adocchiai subito il mio posto sedetti accanto alla madre e cominciai dicendo che sono anch'io forestiero che lì sono tutti tangheri che non sanno distinguere i veri meriti e nutriere il debito rispetto feci capire che avevo molto denaro mofersi di ricondurle nella mia carrozza le condusse a casa feci conoscenza stanno in una certa cameruccia in subaffitto sono appena arrivate mi dichiararono che la mia conoscenza e lei e la figlia non potevano tenersela che d'onore vengo a sapere che sono povere in canna e sono venute a brigare per qualche cosa in non so che ufficio offro servici e denaro apprendo che per errore erano andate alla serata credendo che realmente la si insegnasse a ballare mi offro di contribuire da parte mia all'educazione della giovane signorina fatto di lingua francese e di danze accettano con entusiasmo stimano ciò un onore e io tuttora sono in relazione se volete ci andremo purché non subito smettete smettete i vostri bassi ignobili aneddoti uomo depravato basso sensuale che siete proprio schiller il nostro schiller proprio schiller ma sapete io apposta vi racconterò si fatte cose per sentire le vostre esclamazioni è un gusto sfido forse anche io stesso in questo momento non sono buffo ai miei occhi borbottò con stizza Raskolnikov Svidrigailov sghignazzava gola svegata infine mi chiamò Philip regolò il conto e prese ad alzarsi beh ma son davvero ubriaco ma se cos'è disse è un gusto vorrei vedere che non ci provaste gusto gridò Raskolnikov alzandosi anche lui forse che per un libertino consumato raccontar simili avventure avendo in vista un qualche mostruoso progetto nello stesso genere non è un gusto e per giunta in tali circostanze parlando a uno come me è un eccitante beh se è così rispose Svidrigailov perfino con una certa meraviglia considerando Raskolnikov se è così siete voi stesso un discreto cinico di materia prima perlomeno ne racchiudete in voi un'enormità di molte cose potete darvi conto di molte beh e molte anche potete farle su via però basta rimpiango sinceramente ad aver chiacchierato poco con voi ma non mi scapperete ecco aspettate solo un po' Svidrigailov uscì fuori dalla trattoria Raskolnikov lo seguì Svidrigailov peraltro non era molto brillo il vino gli aveva dato al capo solo per un attimo e l'ebrita gli andava passando di minuto in minuto egli era molto in pensiero per non so che cosa per qualcosa di oltremodo importante si abbuiava una qualche aspettativa visibilmente lo teneva agitato e li inquietava verso Raskolnikov negli ultimi minuti egli era come mutato e a un tratto e diventava ogni minuto più ruvido e beffardo Raskolnikov aveva notato tutto ciò ed era pure in ansietà Svidrigailov gli divenne molto sospetto egli risolse di seguirlo e scesero sul marciapiede voi a destra e io a sinistra o magari viceversa soltanto adieu mon plasio a un felice arrivederci e andò a destra verso la Sennaia